Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo e questo è il mio nuovo video dove farò la mia presentazione. Io mi chiamo Riccardo, ma questo canale si chiama Alessandro perché sto usando il social di mio padre, perché non ne ho altri. Io in questo video vi presenterò me, il mio carattere, tutto quello che faccio intanto a questa età e poi vi dirò che cosa farò come video. Vediamo, io sono, mi chiamo come vi ho detto Riccardo, ho solo 12 anni, vado ancora in prima media, non faccio lavoro o qualcos'altro come vi ho appena detto. Vediamo, io sono un ragazzino molto timido, ecco perché mi sto cercando di farmi aiutare su YouTube. Poi per seconda cosa io vorrei farvi divertire un po', cercare di migliorare con i vostri commenti, ecco perché vi sto cercando di fare un po' di video. Però non ne farò tanti, ve lo prometto, cercherò di farli, però non così tanti come alcuni YouTuber. Io sono molto diverso dagli altri, sono un bel po' più chiuso e cercherò di aprirmi un po' anche a voi. Allora cercherò di presentarvi in un altro video. Allora ciao a tutti! Grazie! Grazie!